MA QUANDO FINISCE STA GUERA? VI WERDEN WEINACHTEN ZU HOUSE FAYAN. E CHI TE CAPISCE. BRAVA! Senti che aria che vi è subito voglia di per l'assante eufemiese. Grazie a piusche, grazie a che camminano l'ocorri in dei bandana. Stai mettendo sul culetto, figlia mia, proprio da donna. Signora, io volevo... Io non posso avere le cuore metà subito adesso. Tu mi piace, Michele. Ma ma... C'ha ragione. Tu sei così bella. Ma che ne dà le 25 euro? Cesi! Tu! Se ci vedesse Rosetta, fanno proprio una bella figura. E' per finire lui, il suo dovere. Arrivederci. Arrivederci. Acaprevedere del mondo. Acaprevedere il mondo. E' per finire. Non si e' per finire.